Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV, l'informazione locale Catturato a Zagarolo il ladro che a marzo mandò all'ospedale due carabinieri di Pergola Imprenditori di Monbaroccio trovato morto in un casolare abbandonato a Serrungarina Cade dall'albero mentre raccoglie le olive, 64 anni trasportato in eleambulanza al torrette di Ancona Furbetti dei rifiuti in azione a Rosciano, abbandonati diversi mobili e del materiale edile Sanità, Forza Italia e i 5 Stelle di nuovo all'attacco contro Seri e la sua giunta Arma dei carabinieri presentato nel comando provinciale e il calendario storico 2018 Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia Questa sera apriamo il nostro telegiornale con una operazione portata a termine dai carabinieri che hanno rintracciato e arrestato nel Lazio anche il quarto componente di una banda di ladri Si tratta di un Rom di 36 anni che per sfuggire alle forze dell'ordine nel marzo scorso aveva speronato l'auto dei carabinieri di Pergola mandandoli all'ospedale Il 9 marzo scorso una banda di Rom di origine croata con base a Zagarolo era stata intercettata dai carabinieri della stazione di Pergola subito dopo aver messo a segno l'ennesimo furto La banda composta da quattro persone per guadagnare la fuga aveva prima speronato l'auto dei carabinieri e poi non riuscendo a proseguire la marcia si era data la fuga nei campi Due venivano arrestati subito ed un terzo catturato a frontone dopo una prolungata battuta di ricerca condotta con numerosi carabinieri della compagnia di Fano, unità cinofile e la sorveglianza aerea dell'aeroclub di Fano Era sfuggito alla cattura però l'autista che aveva lanciato il mezzo contro l'auto dei militari con i due carabinieri a bordo che per i postumi dello speronamento hanno subito un lungo percorso di cura e riabilitazione Terminata la ricerca sul campo però si sono iniziate subito le attività investigative condotte dalla stazione di Pergola per individuare il quarto componente della banda e di complici che avevano permesso la sua fuga Fondamentale per l'avvio delle indagini sono state le telecamere con i lettori targhe recentemente installati nel comune di Pergola che hanno permesso di memorizzare tutte le autovetture in transito nelle ore successive allo speronamento Dall'analisi delle targhe ne è emersa una riconducibile ad un soggetto proveniente da Zagarolo e legato ai componenti della banda Analisi incrociate delle celle telefoniche, ristretto alla cerchia, si è arrivati con la comparazione del DNA comparato all'autovettura con quello dei sospetti si è arrivati all'identificazione del colpevole Così con gli elementi in possesso il GIP del Tribunale di Pesaro ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo che però nel frattempo era scappato in Croazia abbandonando il campo Rom e anche la sua famiglia I carabinieri della stazione di Zagarolo hanno atteso pazientemente il ritorno del ricercato ed appena hanno capito che si trovava in Italia hanno fatto irruzione nell'abitazione della moglie Lo speronatore però si è visto scoperto e si è dato alla fuga in aperta campagna però stavolta dopo 5 ore di prolungate ricerche è stato catturato dai carabinieri Jovanovic Goran, 36enne, senza fissa dimora, già conosciuto alle forze di polizia dopo le formalità di rito è stato condotto in carcere a Rebibbia a disposizione dell'autorità giudiziaria Ora dovrà rispondere di resistenza pubblico ufficiale, furto in abitazione, rapina, danneggiamento, ricettazione e tentato omicidio E gli uomini della Guardia di Finanza di Pescara hanno eseguito tre ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettante persone che devono rispondere del reato di bancarotta fraudolenta per aver distratto ingenti somme di denaro dal patrimonio di una società proprietaria di una catena di supermercati che gestisce punti vendita in Abruzzo È stato provocato infatti un grave dissesto finanziario della Migliarini Store e causato uno stato passivo di 7 milioni di euro Le indagini dei finanzieri, durate oltre due anni, hanno consentito di accertare come la mente del gruppo un 59enne di Pesaro, dopo essersi spogliato di qualsiasi carica societaria continuava a programmare e mettere in atto tutte le strategie economico-finanziarie della società in completa autonomia rispetto agli amministratori formalmente nominati Insieme al 59enne sono stati arrestati la moglie di 52 anni, anche lei di Pesaro e uno stretto collaboratore, un 53enne della provincia presarese E ancora a cronaca, l'imprenditore Giampiero Curina di Monbaroccio è stato ritrovato senza vita a Serrungarina nel comune di Colli al Metauro L'uomo di 52 anni si era allontanato da casa nel primo pomeriggio di ieri e oggi è stato ritrovato impiccato in un casolare abbandonato A fare questa tragica scoperta sono stati i familiari che hanno ritrovato sull'auto dell'uomo un bigliettino in cui ha motivato il gesto per problemi economici A saltare invece un uomo di 64 anni è caduto da un albero mentre stava raccogliendo le olive nel campo di sua proprietà Sul posto sono intervenute due ambulanze di Fano e Saltara ma i sanitari hanno ritenuto opportuno attivare anche un'iliambulanza L'uomo che non ha perso conoscenza è stato trasportato nel reparto di rianimazione dell'ospedale regionale Torrete di Ancona Il 64enne ha riportato diversi politraumi E adesso passiamo alle vostre segnalazioni che oggi ci hanno portato nella strada comunale degli assienti a Rosciano di Fano dove sono stati abbandonati rifiuti di ogni tipo come un divano, un armadio e anche del materiale edile Servizio di Lino Balestra Quando affrontiamo temi spesso legati all'ambiente o alle buone pratiche per lo smaltimento dei rifiuti spesso uno dei nodi cruciali è la conoscenza degli utenti delle possibilità a loro disposizione per essere a tutti gli effetti utenti virtuosi Sapere è essere in questi casi Io so come posso comportarmi quindi agisco di conseguenza ma questo per i forbetti dei rifiuti non sembra valere Siti web, numero verde a disposizione centri di raccolta mobili e orari flessibili del deposito rifiuti speciali a nulla servono contro questi incivili scaricatori di rifiuti Siamo stati contattati dalle tante persone che transitano nella strada comunale degli Astienti a poche decine di metri dal cimitero di Rosciano Lungo il fosso, ai lati della strada è stato scaricato di tutto dal materiale di risulta di un cantiere edile ai cuscini di una poltrona materiale elettrico bidoni di vernice usati e sacchetti vari contenenti chissà che cosa e, dulcis in fundo, un intero armadio smontato è buttato via così, senza nemmeno disturbarsi troppo lasciando anche un'anta attaccata ad un albero assieme ad un divano in similpelle nera lasciato pericolosamente anche a ridosso della carreggiata Come se non bastassero le erbacce, le sterpaglie che non vengono rimosse da chissà quanto tempo ad infestare ed occupare il canale di scolo delle acque più vane ora ci sono anche i residui di un trasloco e pensare che, oltre che poter gratuitamente portarli al deposito di Fano, nel caso non si disponesse di mezzi adeguati l'ASET, udite udite, te li vieni a prendere anche da sotto casa però, perché il miracolo si compia bisogna fare un'operazione faticosissima più faticosa che fare del facchinaggio in piena notte come i ladri troppo faticosa per delle menti così ristrette telefonare semplicemente all'ASET e prenotare E un altro tema caro ai cittadini è quello della sanità per i consiglieri di Forza Italia manca la volontà politica di ottenere risultati per questo si sono rivolti al consigliere regionale Piero Celani Situazione Santa Croce ancora da definire purtroppo i cittadini non possono aspettare la corrispondenza segreta tra il presidente Ceriscioli e il sindaco Massimo Seri ma hanno bisogno di risposte concrete purtroppo i risultati portati a casa sono pochi e non sono neanche reali perché comunque sono tutte cose accampate per aria purtroppo sono cose che non portano risultati veri per i cittadini fanesi per garantire il diritto alla salute quello che possiamo fare noi in consiglio comunale è chiedere dei consigli monotematici cosa già fatta e cercare di portare alle istanze dei cittadini però purtroppo manca la volontà politica da parte della sinistra di cercare di portare un risultato il sindaco che è alle strette tra Sinistra Unita e lo stesso PD forse non alle strette forse anche complice d'accordo su questa situazione un pochino di stare tutti sul limbo quello che vogliamo noi è dare risposte concrete e l'unico modo è portare appunto il dialogo in consiglio regionale quindi abbiamo deciso di affidarci al nostro consigliere regionale Piero Celani la questione della sanità è una questione importante quindi ha bisogno di risposte certe è per questo che abbiamo deciso di chiedere al nostro consigliere regionale Celani di darci una mano e di portare in regione un'interrogazione così da chiedere al assessore della sanità e al presidente della regione Ceriscioli che fine abbia fatto l'atto di indirizzo che ormai è da luglio del 2017 che è fermo in regione e non sembra che sia stato né recepito ma neanche preso in considerazione dalla giunta regionale E anche il Movimento 5 Stelle è intervenuto sul protocollo di intesa tra il presidente della regione e il sindaco Seri Per i pentastellati Santa Croce non avrà diversi servizi fondamentali e sempre secondo i consiglieri i soldi per costruire la strada che collega Fano a Muraglia non ci sono Intervista a Marta Ruggeri Allora, il sindaco Seri ha espresso volontà di contrattare con la regione Marche un protocollo di intesa su alcuni punti programmatici sulla sanità Voi cosa ne pensate? Allora, noi siamo riusciti a leggere finalmente la bozza di protocollo inviata dal presidente Ceriscioli a Seri e secondo noi è irricevibile neanche aggiustabile o emendabile in alcuni punti perché per l'ospedale di Fano prevede neanche i servizi di un ospedale di base quindi che passi, esca dall'azienda, passi all'Asur sia sotto Urbino quindi Urbino avrebbe l'ospedale di primo livello fanno neanche i servizi di un ospedale di base e pesero un'azienda di secondo livello quindi secondo noi è una situazione che non va per niente bene poi non ci sarebbero servizi che sarebbero invece nella clinica privata così come avevamo ventilato da tempo queste ipotesi quindi non ad integrazione ma in sostituzione dei servizi pubblici purtroppo sembra proprio questa la volontà del presidente Ceriscioli tra l'altro abbiamo scoperto che i soldi per costruire la strada che dovrebbe portare a Muraglia non ci sono e l'altro dato che secondo noi non va bene è quello che riguarda i posti per le DRSA perché per avere questi posti convenzionati è vero che la regione ce ne considerà non sappiamo bene quanto perché è molto aleatoria nella lettera però dovremmo svendere a Don Tonucci che adesso è gestione comunale quindi secondo noi è proprio il progetto politico che è sbagliato perché è l'accessione al privato di servizi sociosanitari che fino adesso sono stati pubblici e questa mattina nel comando provinciale dei Carabinieri è stato presentato il calendario storico 2018 le 12 tavole sono state dedicate ai valori etici e sociali dell'arma è divenuto ormai un oggetto da collezionismo stampato in 1.300.000 copie di cui 11.000 in diverse lingue il calendario dell'arma dei Carabinieri anno per anno interpreta attraverso tematiche differenti le diverse componenti dell'arma quest'anno i 12 mesi dell'anno sono i 12 paesi esteri in cui l'arma è stata impegnata in missioni umanitarie è un oggetto importante da tenere ormai sulle scrivenie all'interno dei nostri uffici ma non solo i nostri come è rivolto soprattutto al cittadino il calendario perché ripercorre anche quest'anno la storia dell'arma il tema scelto è quello proprio nei 12 mesi 12 tavole che fanno così mettono in luce in realtà questa nostra capacità nel mondo delle missioni all'estero della cooperazione internazionale 12 mesi per 12 artisti diversi espressione del paese nel mese in cui è dedicato filo conduttore di tutto le colorate e vivide opere del maestro Ugo Nespolo tra i migliori artisti contemporanei si parte dalla copertina con una splendida foto di famiglia rappresentante tutti i 110.000 carabinieri in servizio nelle tante specialità dell'arma alla sinistra delle pagine di ogni mese i compiti istituzionali dell'arma rappresentate dalle plastiche opere di Nespolo mentre sulla destra i singoli artisti che interpretano il futuro e le missioni dell'arma rendendo omaggio al contempo a questi paesi offrendo spazio a giovani ma affermati artisti contemporanei rappresentativi delle culture e delle istanze di popoli di ogni parte del mondo e questa mattina il comandante generale della guardia di finanza Giorgio Toschi si è recato in visita nel comando regionale delle Marche accolto dal comandante interregionale dell'Italia centro-settentrionale centrale Valente e dal comandante regionale Carrozza il generale Toschi ha incontrato i comandanti provinciali una folta rappresentanza di ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri nel corso dell'incontro Toschi si è complimentato per i brillanti risultati conseguiti e ha espresso una sincera gratitudine ai militari che si sono prodigati nelle varie operazioni di soccorso alle popolazioni colpite dall'evento sismico che ha coinvolto il centro Italia azioni, ha detto il comandante generale che hanno testimoniato ancora una volta come il corpo sia al servizio della società civile anche nelle situazioni più tragiche verrà celebrata domani alle ore 20.45 nella chiesa di San Paterniano la missa ricordo dei difunti organizzata dall'associazione Allarghiamo gli orizzonti e dal CSI Fano l'evento che si ripete almeno da 12 anni spiega la presidente dell'associazione Mirella Facchini è nato con lo scopo di dare la possibilità a chi non si avvicinava alla chiesa di unirsi in preghiera per amici e parenti scomparsi la missa che sarà celebrata da padre Lorenzo Carloni aperta a tutti coloro che vorranno prendervi parte siamo sempre a fianco del CSI della Diocesi per ricordare i giovani che ci hanno lasciato continua la presidente e quei ragazzi che non hanno nessuno accanto e non hanno modo di commemorarli in altre occasioni e adesso continuiamo con gli eventi con un esordio bagnato per la prima domenica di Cartoceto Doppi il Festival tante comunque le famiglie che hanno raggiunto questo borgo per la 41esima edizione della Mostra Mercato dell'Olio e dell'Oliva un'apertura bagnata del Cartoceto Doppi il Festival ma sicuramente non penalizzata dal tempo in tantissimi giunti da ogni parte della provincia della regione per questa prima giornata della 41esima Mostra Mercato dell'Olio e dell'Oliva non si sono fatti certo scoraggiare da due gocce d'acqua e dopo una breve pausa in uno dei tanti locali aperti per l'occasione si sono subito riversati fino a tardasera nelle splendide vie del borgo ascoltando le note musicali della banda del paese ammirando i bellissimi esemplari d'epoca di Alfa Romeo giunti in piazza per il primo dei raduni e acquistando i prodotti d'eccellenza del territorio negli stand di Campagna Amica e ovviamente questa annata così particolare fa anche in modo che in piazza Garibaldi quest'anno a Cartoceto ci siano così tanti produttori del settore olivicolo quindi una ricaduta importante per gli operatori economici che si muovono nel campo olivicolo di tutto l'areale della DOP Cartoceto che ricordiamo ricomprende anche i territori di Fano di Colli al Metauro e di Mon Baroccio il re della manifestazione però è lui l'oro verde, l'extravergine d'oliva che quest'anno sia nelle monovarietà che nei blend esprime un prodotto di grandissima qualità anzi volendolo paragonare con il frutto dell'uva si può sicuramente parlare di annata eccezionale si quest'anno a memoria indietro andando indietro non ci ricordiamo di un'annata così alta in qualità quindi la potremmo nominare o dichiarare un'annata storica questa per dell'olio di quest'anno per la sua qualità questa è anche la prossima settimana i visitatori di Cartoceto potranno ammirare una piazza totalmente liberata dai cantieri le mura completamente restaurate e novità assoluta esplorare una Cartoceto sotterranea grazie alla protezione civile che scorterà i visitatori nelle grotte sotto la splendida piazza per poi finire nella bomboniera del Teatro del Tionfo per degustazioni e concerti questa domenica è stata la volta del maestro milanese Fabio Concato unica data nelle marche del suo tour Unplugget e dopo il telegiornale andrà in onda proprio uno speciale dedicato all'evento a Urbino invece lo scorso fine settimana è tornato l'evento dedicato ai futuri sposi ha cambiato nome in Urbino Sposi Expo la fiera di riferimento per matrimoni e cerimonie che si è svolta lo scorso fine settimana nell'ex scuderia del Palazzo Ducale all'evento organizzato da Urbino Incoming erano presenti circa 30 espositori che hanno presentato nuove idee e tendenze per consigliare gli sposi nell'organizzazione del loro giorno più bello Federico, dunque un evento che cresce e che cambia nome Sì, quest'anno Urbino Ti Sposi è diventato Urbino Sposi Expo perché siamo entrati finalmente dopo la terza edizione nel circuito nazionale delle fiere degli sposi che appunto si chiama Sposi Expo quindi anche la città di Urbino gode appunto di questo beneficio di essere all'interno di una rete nazionale quindi può avere una maggiore promozione un maggior risalto Negli spazi della data, orto dell'abbondanza le coppie di futuri sposi e gli appassionati del settore hanno potuto ammirare meravigliosi abiti da sposa e da sposo auto d'epoca assaggiare prelibatezze culinarie e conoscere vari esperti come fotografi di nozze gruppi per intrattenimento musicale e agenzie di viaggi immancabili anche gli allestimenti floreali bombonire, confetti, idee regalo e preziosi consigli sul trucco e parrucco Quest'anno siamo stati molto contenti che hanno partecipato molte più coppie dell'anno precedente siamo arrivati quasi a un centinaio di coppie anche perché abbiamo puntato proprio con la collaborazione con il circuito Sposi Expo sulla presenza naturalmente di giovani che poi decideranno insomma di sposarsi nel 2018 ed oltre Tanto ci rivediamo qua il prossimo anno Assolutamente sì 2018 Urbino Sposi Expo di nuovo qui alla data E chiudiamo con lo sport con l'Alma Juventus Fano perché è giusto il tempo di presentarsi e condurre il primo allenamento che già il neo mister Granata Oscar Brevi è subito chiamato alla prima sfida contro il Sant'Arcangelo non è pensabile in un'ora e mezza di allenamento riuscire a capire i pregi e i difetti di un gruppo ha detto il mister dobbiamo affrontare la gara di domani cercando di dare una svolta perché l'ultima vittoria risale ormai alla prima giornata l'allenatore milanese sul tema tattico che attuerà mercoledì sera ha dichiarato che non si può andare a stravolgere il lavoro che la squadra ha fatto fino adesso abbiamo lavorato troppo poco tempo insieme per poter discutere di cambiamenti tattici Bene con questa notizia chiudiamo qui il nostro telegiornale fra poco andrà in onda una nuova puntata di Box poi in cucina con lo chef e lo speciale dedicato a Cartoceto Doppi il Festival la quarantunesima mostra a mercato dell'olio e dell'oliva vi ricordo anche l'appuntamento di domani sera perché dopo il nostro telegiornale ci sarà l'appuntamento con primo cittadino con il sindaco di Colli al Metauro Stefano Aguzzi e c'erano appunto anche i numeri di telefono per poter inviare messaggi segnalazioni oppure anche chiedere dei chiarimenti al sindaco questo invece è il numero di telefono per le vostre segnalazioni sempre fondamentali per la nostra redazione io vi ringrazio per la vostra attenzione e buon proseguimento di serata con i programmi di Fano TV arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti Autore dei sorrisi